Cremona vanta quasi un primato. Tutti i bambini sotto i sei anni vanno a scuola, il 98% con una dispersione minima anche se in crescita, con un dato che va oltre l'obiettivo europeo del 95%. Ma quel che importa è che non entrino con la schiscetta, il cosiddetto pasto portato da casa, che è stato reso possibile da un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale. Persino Alessandro Fanti della Lega è contrario, che ha votato col centrodestra la proposta dei grillini. Per Luigi Lipara e Giancarlo Schifano è un'assurdità inaudita, un rischio per l'igiene e la salute, un attacco al valore sociale ed educativo della mensa, dove tutti si nutrono senza differenze, con la tutela per ogni dieta e preferenza personale. La crociata contro la schiscetta unisce destra e sinistra. Tutti sono contro la pentastellata Lanfredi, che invece ha raccolto 200 firme, perché le mamme, che non riescono a pagare la mensa comunale, possano almeno permettere ai figli di cibarsi. La ragione della rivolta contro il Consiglio regionale è che il Comune fa del sistema scolastico cittadino una bandiera, refezione compresa, ed ha un finanziamento annuale di 200 mila euro alle paritarie, rompendo un altro tabù di sinistra, malgrado le proteste di una parte del PD. E la vice sindaco, Maura Ruggeri, ormai chiama paritarie anche le comunali. Ci sono nove scuole comunali, cinque paritarie e sei statali, e un totale di 783 bambini sostenuti dall'amministrazione, più numerosi degli iscritti. Il Comune investe, riuscendo a riportare alla mensa 136 alunni e favorendo i residenti nelle graduatorie per ridurre gli spostamenti in auto, il traffico e l'inquinamento, e favorire la socializzazione nei quartieri e i legami tra famiglie e scuole. È la scelta della Giunta nel mese delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Molti però i problemi aumenta l'amorosità delle famiglie, arrivata al 20%, senza però togliere il pasto ai piccoli alunni. Spicca il dato dei disabili, il 2,6%, il doppio della media nazionale, con un incremento rilevante di casi di autismo. Si aggiungono gli alunni seguiti dai servizi sociali, oltre il 3%. Azzerate le liste d'attesa. Ci sono 78 insegnanti, 32 sezioni, 18 bidelli di ruolo, 18 operatori delle pulizie, affidate a una ditta esterna, 8 cuochi dipendenti e 8 volontari. Gli edifici, dopo decenni di tagli governativi, sono spesso in cattive condizioni. Anche alla scuola Trento e Trieste però sono previsti lavori per ristrutturare i bagni e la palestra.